So cosa stai pensando, stai pensando ecco uno degli operai di Fonkluge, di sicuro ha un cristallo del potere da vendere, si ce l'ho ma non c'è bisogno che tu faccia il cretino, cretino, sei tornato a rompere, non hai abbastanza monete ma vuoi provare a comprare il mio cristallo? Che cretino, cretino, ecco il cretino che torna a fare cretinaggini, arriva col primo treno da cretinolandia popolata di cretini, ed ecco da cretinolandia cretino dei cretinis, arriva già rincretinito da una dose di cretineria doppia, va mai a cercare le monete, cretino.